130 la sezione di Napoli, fondata nel 1930, 135 soci, 4 adunate nazionali a Napoli, sezione di Napoli che sfila insieme con il vessillo dei rotariani alpini, perché gli alpini sono ovunque e i rotari e i alpini significano entrambi la stessa cosa, solidarietà, amicizia. ...che raccoglie anche il pini di Calabria e voglio dire, vedrete, per come sono andate le cose, noi avremo nel tempo sempre più alpini, giovani, proprio in queste sezioni, perché tanti ragazzi del sud oggi indossano l'uniforme e il cappello alpino e domani saranno con noi nell'Associazione Nazionale Alpini. proprio in queste sezioni dalle quali, dai cui territori essi provengono, che sono sezioni lontane, le sezioni del sud, le sezioni che a qualcuno possono sembrare meno vicine al nostro spirito e che invece lo sono enormemente, enormemente, come la sezione di Bari, sezione di Bari, Puglia e Basilicata, tre medaglie d'oro su questo vessillo, tre medaglie d'oro...